Quando hai scoperto questo posto? Un giorno in cui stavo male. Per te, a dire il vero. L'anno scorso. Così sono salito in moto e... ho continuato a vagare senza meta. Poi è successo qualcosa al motore e allora mi sono messo a camminare. E sono arrivato qui. Non potrebbe essere più bello. Ti piace? Sì, Leon, è stupendo. Da allora vengo qui a pensare. Quando sono solo. Questo posto mi trasmette calma. Sento che... Che tutto ritrova un equilibrio. Esatto.